Il turco a Vienna, l'assedio ottomano del 1683, di Franco Cardini. Buonasera, noi staremo insieme per alcune sere per rievocare un evento, un fatto molto preciso della storia della nostra Europa, della storia del mondo cristiano occidentale, anche della storia del mondo islamico e dell'impero sultaniale turco. Una storia complessa, ma anche bella da percorrere, che si rievoca e, voglio sperare, si ascolta anche volentieri come un romanzo d'avventure, se si vuole qualcosa di cappa e spada, qualcosa che forse avrebbe avuto bisogno di un genio come Alexandre Dumas, che l'avrebbe raccontata da par suo, come un Gobinot, per esempio, Gobinot amava molto i racconti orientali. Si tratta dell'assedio turco di Vienna. Perché parlare dell'assedio turco di Vienna e non di tante infinite altre cose di cui si potrebbe parlare? E perché parlarne adesso, parlarne in questi nostri giorni, in questo inizio del ventunesimo secolo? Allora, anzitutto i fatti, tanto per orientarsi. Siamo in un periodo lungo un paio di mesi, dal luglio al settembre del 1683. Una grande armata ottomana, insieme, quindi turca, insieme però con alleati, alleati che vanno da alcuni vassalli, anche cristiani, valacchi, serbi, ungheresi soprattutto, e poi anche vassalli dell'impero turco, che invece sono i mongoli, quello che resta dell'impero mongolo, dell'ordadoro, che nei suoi anni migliori, fra 300 e 400, aveva occupato tutta una vasta area corrispondente grossomodo all'Ucraina e alla Crimea attuali, e che alla fine del 600 si era un po' ridotto, ma era pur sempre una potenza temibile. Questa coalizione di popoli e di eserciti guidati dal sultano, meglio non dal sultano, ma dal suo gran vizir, dal suo primo ministro, cara Mustafa, Mustafa il nero, la parola cara in turco significa appunto questo, il nero, assediano la città di Vienna, dal luglio al settembre del 1683, e saranno sconfitti in parte dalla ostinata eroica resistenza dei viennesi, in parte anche dall'arrivo di più contingenti spediti dall'Europa cristiana, un'armata composta fondamentalmente dai principati e dalle città tedesche, ancora formalmente legate nell'ambito di questa stranissima e complessa compagine che è il sacro romano impero della nazione germanica, ma soprattutto poi saranno sconfitti anche dall'apporto decisivo del re Giovanni III di Polonia, Jan Sobiecki, come di solito lo chiamiamo e come amano chiamarlo ancora oggi i polacchi. Perché parlare di questo episodio e perché insisterci? Beh, anzitutto bisogna dire, per evitare possibili confusioni, e le confusioni in quest'ambito di problemi sono sempre possibili perché se ne sa sempre meno di quanto non si creda, i grandi assedi di Vienna sono stati due, uno nel 1529, quindi al tempo dell'imperatore Carlo V, e un altro appunto nel 1683. Sono due assedi entrambi condotti da soverchianti, truppe turco-ottomane, ma in circostanze in un contesto molto diverso, quindi i due assedi hanno senza dubbio un collegamento, ma vanno evidentemente considerati separatamente. Noi parleremo soprattutto, anzi parleremo esclusivamente del secondo. Cerchiamo quindi, in questa nostra prima serata, di mettere bene sul tavolo dal gioco le nostre carte, come si usa dire. Perché parlare di un episodio come questo, importante, fondamentale, sconvolgente, tutto quello che si vuole, ma in fondo è un episodio bellico, chiuso in un ambito temporale piuttosto ristretto, che ha avuto senza dubbio delle forti conseguenze sull'equilibrio europeo, molto più di quanto non si creda anche sulla politica interna ed destra di molti stati cristiani. Non è stato semplicemente, come dire, un episodio militare. Nessuno vuol fare, nessuno vuol riproporre la storia fatta di battaglia, l'histoire battaglia, come dicono i francesi. No, però confessiamoci che noi, in questa alba incerta del ventunesimo secolo, siamo molto attratti dalla storia del passato e soprattutto dalla storia delle relazioni tra paesi cristiani e paesi musulmani, e badate bene, ho detto relazioni fra paesi cristiani e paesi musulmani, non ho detto tukur, relazioni fra cristianesimo e Islam. Il problema non è evidentemente religioso, ma è storico, è politico, anche se naturalmente la religione c'entra e non bisogna mai dimenticare che noi stiamo per parlare di un tempo in cui alla fine del Seicento, ancora come in fondo nel Medioevo, le società erano intimamente intrise di valori religiosi. In altri termini, noi non stiamo parlando di un'Europa che somiglia all'Europa contemporanea al di là di un certo segno. La continuità storica, senza dubbio, c'è, ma la continuità storica, come sapete, è sempre interrotta da continue fratture che poi si suturano. C'è una continuità, per così dire, temporale, cronologica, senza dubbio, c'è uno stesso teatro geografico degli avvenimenti. Anche lì bisognerebbe discutere un po'. In fondo si parla del bacino del Danubio, che si è un po' modificato nel corso dei secoli, si parla del clima, si parlerà anche del clima, per forza di cose. Bisogna tenere presente che alla fine del Seicento siamo negli ultimi decenni di un periodo che è stato definito molto pittorescamente la piccola età glaciale europea, periodo che comincia nella prima metà del Trecento e che si risolverà solo alcuni secoli più tardi, nella prima metà del Settecento. Un periodo freddo per la nostra Europa. E anche questo elemento, questo clima peggiore, questo clima tendente alle piogge, alle nubi, all'umidità e di inverno caratterizzato da inverni molto rigidi, ha il suo peso nella storia. Quando i climi peggiorano, le difese alimentari, se le difese alimentari scarseggiano, aumenta la mortalità, soprattutto quella infantile e quella degli anziani, e insomma una società risulta profondamente provata da questi elementi anche climatici. Bisogna tenere presente quindi tutti questi fattori. Lo so che è un esercizio difficile, è un vecchio problema di tutti noi che ci occupiamo di storia a livello professionale, anche come insegnanti. Sarebbe molto bello poter raccontare la storia in termini semplici e lineari, seguendo la cronologia e raccontando prima quel che è successo prima e poi quel che è successo dopo, in maniera pulita. Ma purtroppo, per tutte le cose, sapete, c'è sempre una soluzione semplice. Tutti i problemi hanno una risposta semplice e di solito è quella sbagliata. Se noi vogliamo capire la storia, bisogna rileggerla dal di dentro, con molta pazienza, cercando di ricostruirne la complessità e di non perdere nessun elemento della complessità. La storia è nemica dei discorsi da bar dello sport, la storia è nemica dei discorsi che qualche volta si leggono anche sugli elzaviri dei quotidiani, dove volta per volta ci dicono chi ha ragione e chi ha torto. La storia è una realtà molto complessa, cercheremo di avvicinarsi ad essa con il dovuto rispetto per questa complessità. La storia si è detto, lo hanno detto in molti, è anche sempre storia contemporanea. Non bisogna, credo che non si debba fare, ma credo che non sia nemmeno possibile passare sopra a questa caratteristica della storia, sia un bel fare, sia un bel dire, ma quando si rievoca un fatto, un evento, una istituzione, una struttura, insomma, qualche cosa che ha a che fare col passato, qualunque cosa abbia a che fare col passato, lo si fa sempre con quella specie di strabismo ideale con il quale si pensa appunto al passato, cioè un occhio guarda sempre al presente. E in effetti forse noi non saremmo qui a parlare di un episodio in fondo lontano e almeno dalla grande storia dimenticato, anche se al suo tempo fu un episodio terribile che fece un grande fracasso, noi non saremmo qui se alle nostre spalle nell'immediato non ci fossero dei fatti che in qualche modo ci spingono a ritrovare nella storia del passato elementi che in qualche modo rimandino, per analogia se non altro, al nostro presente. In altri termini non c'è dubbio che gli eventi dell'11 settembre del 2001 ci abbiano profondamente toccati, che ci abbiano profondamente scossi, non c'è dubbio che alla luce dell'11 settembre noi occidentali siamo stati condotti e quasi obbligati dalla forza delle cose a ripensare al nostro complesso rapporto col mondo islamico e non c'è dubbio al tempo stesso che i più avveduti, i più attenti fra noi hanno anche però ricordato sempre che anche questo rapporto di dicotomia, di affrontamento fra occidente e islam è largamente fallace, è largamente semplicistico se lo assumiamo nel suo valore assoluto. Intanto i concetti di occidente e anche perfino il concetto di islam non sono concetti fissati una volta per tutte. Il mondo occidentale ed europeo della fine del seicento, quello di cui ci dovremmo occupare in queste nostre serate, è un mondo in cui la società europea si riconosce ancora profondamente nella fede cristiana. Però è un mondo in cui la società europea vive una lacerazione profondissima proprio rispetto al suo rapporto con la fede cristiana le diverse confessioni, la cattolica, le confessioni protestanti, le confessioni ortodosse, la greco ortodossa e la russo ortodossa, che sono in qualche modo marginali ancora del mondo europeo. Gran parte del mondo greco ortodosso, direi quasi tutto, è soggetto alla signoria del sultano, mentre il mondo russo ortodosso alla fine del seicento si va sempre più organizzando attorno a questa grande istituzione storica, il vecchio granducato di Moscovia, che sta diventando sempre più in realtà quello che poi siamo abituati a considerarlo per i tre secoli successivi, cioè l'impero di Russia. Una cristianità quindi non unita, non omogenea, attraversata anche al suo interno da liti, da lotte, una cristianità di stati che sono abituati a farsi la guerra fra loro. Quindi il nostro immaginario che appunto alla luce dell'11 settembre qualche volta noi siamo portati a inquadrare sotto il segno dell'unità deve essere in questo senso corretto. Non esiste una cristianità unitaria, ma la cristianità è frammentata evidentemente intanto in due differenti confessioni. Parlo della cristianità occidentale naturalmente, la cattolica e la protestante, a sua volta divisa in più chiese. Poi c'è naturalmente anche la cristianità ortodossa di cui bisogna tener conto. E dall'altra parte l'Islam stesso non è meno disunito. Al tempo al quale ci stiamo riferendo, lo ripeto e lo ricordo, la fine del 600, la fine del XVII secolo, l'Islam, dicevo, non è a sua volta meno disunito della cristianità europea. La cristianità europea assiste a una pluralità di forze in presenza, una pluralità di potenze, fra cui c'è senza dubbio una ne spicca, quella della Francia del re sole. La Francia del re sole che deve però confrontarsi con la tenaglia storica che ormai da quasi due secoli costituisce il suo grande problema, la potente Francia di Luigi XIV è stretta in una morsa, una morsa che per la verità è almeno in quel momento molto blanda, ma così non lo è stato in passato, costituita dalle due grandi compagini tenute insieme dalla stessa famiglia, la dinastia degli Asburgo, che si è divisa un enorme impero territoriale che era quello che alla mità del Cinquecento era ancora nelle mani di Carlo V, che però ha operato una divisione attribuendo al fratello Ferdinando i territori ereditari della casa d'Asburgo, tra Austria, Bohemia, Ungheria e anche la corona imperiale con quello che ne sussegue, cioè una certa preminenza su tutta la Germania, difficile a quantificare, l'imperatore non è un sovrano assoluto, l'imperatore è un sovrano largamente simbolico per molti aspetti, a cui però si fa risalire una quantità di valori e di prerogative, l'imperatore è un sovrano che è capace di tradurre in legge qualunque tipo di provvedimento, mentre i principi tedeschi dell'impero non possono legiferare sui problemi massimi della organizzazione sovrastatale costituita dall'impero stesso. Dall'altra parte ci sono gli Asburgo di Spagna, eredi di quel Filippo II il Bello, figlio di Carlo V, appunto, che ha ereditato dal padre, quando il padre si è ritirato dalla vita, e di lì a poco sarebbe anche morto, nel 1556, ha ereditato, dicevo, non solo la Spagna, cui si aggiungerà anche per una politica matrimoniale del Portogallo, ma anche le fiandre, ma anche i possessi italiani e anche il grande oltremare, anzi il grande oltreoceano atlantico. Quindi l'impero spagnolo, la monarchia di Spagna domina dalle fiandre alla Spagna, all'Italia, il che vuol dire a buona parte del Mediterraneo, il Mediterraneo è quasi, del tempo è quasi un lago spagnolo, contesoli tuttavia, e vedremo da chi e in quale modo, fino ad arrivare all'America, l'impero donde nunca sia questa il sol, dove il sole, come si diceva al tempo di Carlo V, non va mai a dormire, che c'è sempre un punto dell'impero in cui c'è il giorno. Dall'altra parte, quindi, abbiamo un'Europa lascerata dal conflitto franco-asburgico, un conflitto che ha fasi calde e fasi tiepide, in questo momento siamo in una fase tiepida, ma molto interessante, molto complessa e controversa. abbiamo poi una potenza inglese che domina i mari, ma che è a sua volta tallonata da una potenza territorialmente piccola, ma molto qualificata dal punto di vista della forza economica, della forza commerciale, della capacità di estensione coloniale che è l'Olanda. Quindi l'Europa che è ancora cristiana, la cristianità europea, dove i re o i capi di Stato si riconoscono nei principi del cristianesimo, è un'Europa però politicamente divisa. Vedremo domani come anche l'Islam del tempo non si era a meno in questo gioco di divisioni. Riprenderemo dunque questo discorso domani sera.